Benvenuti in questo caso clinico che vi voglio mostrare, che secondo me è estremamente interessante e didattico, di una paziente molto giovane, 26 anni, femmina, affetta da una gravissima parodontopatia. Vedete che i due centrali superiori sono estremamente compromessi, il sondaggio è fino all'apice, vedrete anche la radiografia che mostra una perdita completa, osso autologo prelevato con dei safe scraper dalla mandibola e il 50% di bio-osso. Quindi le membrane vengono poi chiuse e fissate con una certa tensione per dare stabilità alla membrana stessa con dei chiodini a livello vestibolare. A questo punto vediamo il video dell'intervento, si incomincia con un'incisione verticale a tutto spessore, un dente oltre, quindi crestale, su tutta la, vedete, la parte crestale delle due selle ed enture che vengono trattate contemporaneamente, quindi incisione sulculare sui due elementi adiacenti e incisione verticale. quindi si scolla con un'incisione verticale a tutto spessore, quindi si scolla con un'incisione